Scusa, stai dicendo a me, mi stai dicendo a me, sto andando, sto andando sul lago di Darla, ha lunato perché stasera c'è la festa dei passi di rugby, stasera c'è la festa dei passi di rugby e allora andavo là perché stasera fanno i passi di rugby, fanno la festa per l'autismo, per l'autismo, perché noi come passi di rugby non è, festeggiamo l'autismo solo 2-4 di aprile, noi cerchiamo di festeggiarlo tutto l'anno, ecco, è una bella festa perché facciamo una serata dedicata a Vasco Rossi anche, c'è anche l'amico Pasquale che suona Pasquale, Pasquale, abbiamo fatto anche i padroni dell'autismo, così il ringavato che è stata la trinta d'ora a farmi e ci vediamo là stasera, allora io stavo andando adesso, ho appena finito, io sto correndo ancora dal quadro mio prima perché non mi ha detto niente a nessuno allora sto con la correnti, ecco, e dopo stasera c'è un menu, un menu di 15 euro dove 10 euro vengono devoluti, vengono devoluti in beneficenza l'associazione autismo, e cosa si mangia? Si mangia? Si mangia la paella e si beve la sangria, 15 euro, 10 euro vengono tutti in beneficenza, vengono tutti in beneficenza 10 euro, grande Fiorella perché la Fiorella è la proprietaria lei che ci lascia organizzare quella serata qua del cuore, ecco, ecco, sono per quello che io stavo andando così, quindi noi oggi festeggiamo, festeggiamo l'autismo anche oggi, volevo già che mi dici questo, volevo salutare anche la mia amica Roberta, Roberta che è maschile, all'estrata Garatti, in testa e tantissime altre che fanno parte dell'associazione, c'è un'angela, neanche la meditisce per caso, e dopo allora facciamo così, se volete venire anche voi, ci vediamo stasera a Donate nel Garda, al Madai Beach, di Senzano nel Garda, ci vediamo là, quanti? Ci vediamo là stasera e vi aspettiamo per prenotare 338-268-3879, Peppet e Amen, 338-268-3879, c'è lo Sio Succa che vi prenota, ecco, siamo già un bel gruppo ma dentro, c'è già quasi 130 persone, 130 persone, dopo non lo so perché, ecco, è così, ci vediamo allora, vi aspettiamo stasera, pazzi di ragmi, di cobra, cobra, con Michael Piscitelli e tutti gli amici del cobra, e poi ci sono anche altre associazioni, tipo clown, clown, ci sono anche i clown stasera, la protezione civile, la protezione civile, e tanti altri che vengono a trovarci, ok? Ciao grandi, mi raccomando, che all'autismo non è soltanto la settimana, dal 2 al 4 di aprile, mi raccomando, lo festeggiamo tutto l'anno, ciao pazzi, buona giornata!